Nuovo turno disputato nei campionati di eccellenza, promozione e prima categoria. Ecco il riepilogo di quanto accaduto sui campi principali. Sempre più incredibile la situazione in eccellenza, dove è cambiata nuovamente la capolista. Il Volpiano è crollato in casa 2-5 con la Pro Novara che pareva essere in calo, ed è stato superato dal Borgaro che ha battuto 2-1 la Pro Eureka. Non ne ha approfittato lo leggio. Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.